Siamo a casate, siamo a casate vuol dire siamo in vacanza, vuol dire niente da fare e diritto di fare quello che piace. Siamo a casate. Siamo a casate vuol dire siamo in vacanza. vuol dire niente da fare e diritto di fare quello che piace, siamo accasate, siamo accasate vuol dire siamo in vacanza, vuol dire niente da fare e diritto di fare quello che piace, siamo accasate, siamo accasate vuol dire siamo in vacanza, vuol dire niente da fare e diritto di fare quello che piace, siamo accasate. Siamo a casate vuol dire siamo in vacanza, vuol dire niente da fare e diritto di fare quello che piace, siamo a casate, siamo a casate vuol dire siamo in vacanza, vuol dire niente da fare e diritto di fare quello che piace, va bene?